faccio una panoramica della situazione ovviamente c'è qualunque cosa su questo muro sarà un lavoro impegnativo il muro per fortuna intonacato quindi la vernice dovrebbe prendere meglio però la situazione non è non è facile i disegni sono tanti e i colori sono anche forti per cui probabilmente una mano di vernice non sarà sufficiente per coprire completamente tutto naturalmente ci sarà anche da fare un lavoro di pulizia perché qui intorno fa abbastanza schifo comunque siamo già al lavoro aspettiamo gli altri adesso ancora presto noi siamo arrivati prima vero antone